Le liste d'attesa in fondo sono una bazzecola rispetto al male vero che nessuno può augurare e augurarsi. Ma certo è che quando viviamo il male vero allora riusciamo a capire quello che è la sanità. Giusto quello che dici Nobile Tasso, io prendo lo spunto da un'inchiesta da due pagine di bel giornalismo del Corriere dell'Umbria del nuovo direttore Sergio Casagrande che ha fatto un'inchiesta partendo dai bisogni e dalle esigenze dei malati oncologici della nostra regione, dell'Umbria. L'accusa che ne viene fuori nella sostanza dal mio punto di vista è che i malati oncologici, molti malati oncologici, sempre più malati oncologici in Umbria devono rinunciare al servizio pubblico per curarsi e invece rivolgersi al sistema privato della sanità. Perché di fatto i malati oncologici moltissimi devono fare dei controlli serrati, mensili, trimestrali, quadrimestrali e per molti sono anche non solo analisi semplici ma anche analisi complesse. Soltanto che ad esempio nella nostra regione è di fatto impossibile fare un ecoaddome o una risonanza magnetica per il pubblico se non dopo mesi. Allora è evidente che un malato oncologico che ha certe scadenze, anche mensili, è costretto a rivolgersi inevitabilmente al sistema sanitario privato. E non ci siamo, così non ci siamo perché c'è una spinta continua ma anche rispetto a queste malattie così dure e pesanti a rivolgersi al sistema privato. I malati oncologici dovrebbero avere un percorso diverso dagli altri e che le prenotazioni che possono essere tante dovrebbero essere in capo al sistema. Perché un malato oncologico prima deve andare alla Coppa, poi a Perugia va a piazzare l'Europa, poi deve essere preso in carico e poi scorrono le settimane, scorrono i mesi, si alza la tensione perché la visita successiva che deve fare si avvicina sempre di più e a un certo punto va a farsi la risonanza magnetica o l'ecografia sul sistema privato. Invece se fosse il sistema stesso pubblico a prenotare e organizzare i controlli, i sistemi e gli esami per i malati oncologici tutto sarebbe molto più semplice. Certo, sarebbe un sistema che non spinge verso il privato e questa spinta verso il privato che colpisce tutti io la ritengo inaccettabile perché tutti hanno il diritto di curarsi e allo stesso tempo la sanità non deve essere un affare e la cura per tutti e per tutti deve essere un diritto. Ecco, anche nella nostra regione stiamo raggiungendo livelli insopportabili per i diritti dei malati e io credo che occorre una svolta e un cambiamento profondo.